buongiorno ciao stai salutando emma dove sei buongiorno anche a te io già sto all'opera disinfettare a pulire a fare ragazzo come proprio perdonate il mio aspetto cercate di capirmi comunque oggi cerco di darmi un pochino una pulita una gara un pulito bella vale mi lavo ma non è che sto in vena di farmi il capello però devo perché non posso stare così e niente raga se ripenso la notte passata ho paura di andare a dormire di nuovo perché sono stata veramente lasciamo perdere comunque adesso mi metto velocemente a pulire mentre emma fa la colazione così non voglio stare tutto il giorno a trascinarmi le pulizie vorrei fare qualcosina in cucina oggi amore che dici vogliamo preparare qualcosa non so una focaccia le focaccine di benedetta che quelle sono buone quelle piccole piccole sempre bledish mia figlia poi mangio però non è che dici che non mangio queste cose qua le cose schifezzose le mangia oppure volevo fare anche una cosa buona i crackers quelli con i semi quelli pure sono buoni adesso vediamo oggi insomma a dopo allora ragazze mamma mia mi sento una schifezza stamattina stiamo migliorando allora vi volevo vedere le cose che mi ha portato mia madre vabbè questa è la mia mi ha fatto la spesa per i bambini allora il latte per brando questo qui anticolica emma guarda la nonna che ti ha portato allora la pera per brando oh guarda qua per emma quante cose buone ha portato per emma e per brando per tutti e due guarda i fruttini questa che cos'è la prugna oggi oggi faccio fatica a parlare amore sistema il cassettino che combinato le barrette altra frutta stai lavorando grazie barrette e poi ci ha portato i cornetti grazie buoni emma dove stiamo andando facciamo 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 la gita fuori porta come l'altra volta se vi ricordate ovviamente sul terrazzo non vi pensate dove però almeno usciamo un po all'aria aperta allora emma stiamo facendo colazione all'aperto che dici ti piace la colazione però mamma deve organizzare un pochino meglio poi mettiamo il tavolo va bene mi attimo che oggi è andata ma che stai facendo ti stai aggiustando è buono questa questa la nonna l'ha portata ci ha portato la colazione brando che cosa fai tu a te niente mamma vuoi assaggiare un po' mamma ti fa assaggiare un po' una piccola brisciolina vuoi assaggiare brando te brando te come mi ami ho già pulito fuori ma devo ripulire perché c'è il macello come ben sapete qua non è asfaltato quindi è sempre sporco cioè c'è l'asfalto ecco non c'è il pavimento scusate emma che cosa ti hanno portato facci vedere quanto è bello e i fazzolettini ti piacciono brando che combini come bello mamma stupendo si ragazze qui è pomeriggio buon pomeriggio mia madre mia sorella mi hanno portato altri viveri hamburger è un po di petto di pollo che faccio a cotoletta demma e poi piano ho preso la la pillola alle 10 adesso sono le 4 quindi ci sta sono passato un bel po di ore devo dire che sono stata bene quindi penso che tra un po ne ne riprendo un'altra eccoci qua ragazzi abbiamo fatto la torta in tazza e ma alla fine del mondo buonissima la rifarevo troppo buona in tre minuti abbiamo trovato una ricetta super spettacolare faccio amore ciao brando ciao brando eccola qua ti devo cambiare che sei tutta sozza way onella allora ragazzi è tornata mia madre siamo al secondo giorno e già io mi sono fatta portare 10 miliardi di cose andiamo bene fra tipo al decimo giorno secondo me avrò preso altri 20 kg vediamo cosa ci ha portato allora come prima cosa mi sono fatta prendere le patate quelle fresche vieni qua emma qua che cosa abbiamo le fragole buone mamma mia buone le fragole che profumo amore senti che profumo le fragole abbiamo la natura e la light per rimanere a dieta le marmellatine ferma ferma aspetta faccio io prima faccio vedere a mamma abbiamo le rape non ve l'aspetto queste rape poi abbiamo la pasta sfoglia la pasta brisee gli spaghetti questi che sono frutta mista per i bimbi che cosa quello il giornale quello è il tuo giornale ma queste sono per me le bombette buonissime piano piano ma aspetta abbiamo i tubettini le banane per papà che lui è un amante della banana questi che sono la mela o la marmellata buona la pasta ed infine altri giornali questi sono per emma che ma piace leggere vero ci sono anche i giochini amore guarda ma andiamo a vedere brando che piange a dopo piange a dopo piange a dopo piange a dopo piange a duгу piange a causa più Grazie.